Per l'anno 2015 l'indicatore LEA per l'Abruzzo, che fotografa i livelli essenziali di assistenza sanitaria, si attesta a 182 punti, includendo per il secondo anno consecutivo la regione tra quelle pienamente adempienti. A ufficializzare il dato, comunicato lunedì dal Ministero della Salute, è stato questa mattina l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. I risultati più importanti riguardano la prevenzione, come le coperture vaccinali e gli screening, e l'assistenza distrettuale, che hanno registrato un incremento di circa 10 punti. Resta buono il punteggio dell'assistenza ospedaliera. E peraltro va sottolineato che soprattutto nell'ultimo anno il balzo è stato davvero molto significativo, soprattutto sull'area della prevenzione e l'area territoriale distrettuale, a significare che ovviamente ci sono cure più appropriate, ma anche di qualità. Non lo attesto io, lo attesta il Ministero della Salute, che nell'ultimo verbale sottolinea come nell'Abruzzo si sia registrato nel corso del 2015 un ampio miglioramento sulla qualità delle cure. Io credo che possa essere motivo comunque di apprezzamento. Nel corso dell'ultimo tavolo di monitoraggio sono state evidenziate anche alcune criticità rispetto alla gestione contabile del sistema sanitario regionale. Certamente sono collegate, però io aggiungo anche che non è che ci siano criticità sulla parte del contabile. Un verbale del tavolo di monitoraggio in tutte le regioni solleva e accende dei riflettori su delle questioni. Però trovo davvero anche stucchevole un dibattito politico fatto sulle note di credito dell'anno 2012 di una singola o di ciascuna delle asle. Insomma non è quello il succo del verbale del tavolo di monitoraggio. Il tavolo di monitoraggio va bene quando ci si attesta quel risultato e si dice che incassiamo una premialità altrimenti non sarebbe chiamata né premialità e non ci verrebbe erogata. È di stata di 70 milioni nell'ultimo tavolo.